No, non sono queste le orribili creature che hanno deciso di soggiogare la razza umana. Chi sono? Come agiscono? Dove si nascondono? Questo è lo spettacolo che hanno visto i componenti della squadra quando sono entrati nella stazione. Gli uomini erano morti, assassinati e con una terribile espressione sul volto. Rod Jackson, missione Himalaya. Altri uomini hanno deciso di affrontare il terribile mistero. Rod Jackson, missione Himalaya. Mediante un complesso di analisi abbiamo potuto individuare il luogo di origine di questa energia. È un'area ai confini tra la Cina e l'India, sull'Himalaya. La leggenda ci parla di una strana razza che vive su quelle montagne. Una leggenda lontana nasconde una realtà di domani, un incubo di distruzione, un duello a morte. Voi avete fatto questo, ma vi distruggerò, vi ucciserò tutti! Rod Jackson, missione Himalaya. I mostri vengono dal cosmo. Sono inafferrabili come meteore. Sistema in funzione. Gravità 8G. Riduzione di gravità. Sistema automatico. Programmato per neutralizzare 10G al distacco del primo stadio. Il radar segnala qualcosa. Adesso. Rod Jackson, missione Himalaya. Una gigantesca catastrofe. Una spietata minaccia. Io e la mia gente non discendiamo dalla scimmia, perché non siamo del vostro pianeta. Che cosa? Siete di un altro mondo. Ecco il mio mondo. Attia. Il quinto pianeta del nostro sole in un altro lontano sistema. Rod Jackson, missione Himalaya. Dalle inviolabili vette dell'Himalaya, agli abissi del cosmo, guerra spietata ai mostri delle tenebre. Rod Jackson, missione Himalaya. Rod Jackson, missione Himalaya. Sorbiere. Ragazzi. Rod Jackson. Grazie a tutti